Si rinnova in tutta Italia l'appuntamento benefico con le arange della salute, evento organizzato alla Fondazione per la ricerca sul cancro che, come ogni anno, si terrà l'ultimo sabato di gennaio. Ad occuparsi di questa importante raccolta fondi nel nostro territorio saranno i volontari della misericordia di Vallo della Lucania, guidati dal presidente Angelo Palladino e dalla coordinatrice Elisa Romanelli. Il luogo principale per comprare le arange e contribuire alla ricerca sarà a Piazza Vittorio Emanuele II, dove verrà installato un banchetto il 27 gennaio dalle ore 9 la mattina fino alle ore 14. Per quanto riguarda Vallo, sarà possibile acquistare le arange anche presso l'ospedale San Luca. Ma l'impegno della misericordia su questa raccolta non riguarda solo la vendita. L'associazione si prefigge infatti anche lo scopo di sensibilizzare il più possibile le persone sull'importanza della prevenzione. Perché, è scontato anche dirlo, prima si scopre di essere malati e maggiori sono le possibilità di guarigione. Per svolgere questo lavoro sono stati coinvolti insegnanti e studenti dalle varie scuole della città. Inoltre, come accade tutti gli anni, le arange verranno vendute anche in altri comuni occidentani, tramite volontari che agiranno in altri paesi del territorio con la collaborazione degli enti locali. I comuni in questione sono Campora, Cannalonga, Gioci Lento, Moio della Civitella, Montanantilia, Nuova Ivelia e San Mauro Labruca.